Ciao ragazzi, sono qui con un aspirante mago che ora mi farà un trucco di magia Adesso, questo trucco è molto semplice Io qua ho tre carte, ok? Seguite, perché io qua ho un Joker Ho un secondo Joker Ma ho anche una regina di fiori Seguite la regina di fiori, adesso dov'è? È in fondo No, perché in realtà, ti ho detto, una bugia è in cima Adesso dov'è? In cima No, perché in realtà è in mezzo Io in realtà, ti ho detto, una bugia, io in realtà ho solo Joker Infatti ce n'ho uno sotto, ma ce n'ho anche uno in cima, ma ce n'ho anche un in mezzo Aiuto Però aspetta Io in realtà ho solo le regine di fiori Infatti guarda, una, due, tre Ok, però aspetta, metti la mano così un attimo Io sì avevo una regina di fiori, sì avevo un Joker Ma avevo anche un asso di picchia che non ho ancora visto Allora io riguarderò questo video e cercherò di capire cosa è successo Perché, aiuto, com'è fatto? Non posso dirlo Vediamo Questo trucco Ok Come prima, fermami quando vuoi Adesso Qui? Sì Qua Ok Ok Adesso la metto in mezzo al mazzo Sì Miscolo Ok Questo qua non è la tua carta, giusto? No Non mi vedessi che scola Questa Vabbè Cioè questo è un mago vero? Come ti chiami? Emilio Arduin Emilio Arduin Vi lascio il link in descrizione, il suo profilo in cui andarlo a seguire ragazzi Ok, aspetta Prima di finire il video facciamo l'ultimo trucco Vediamo un po' Indicami una carta, una carta qualsiasi È un po' lungo questo Ok, ma è meglio Questa Questa carta qua? Sì Ok Ce l'hai? Sì Ok Perfetto Adesso, so che può sembrare tanto, però ho bisogno che me ne indichi altre nove Quella me la devo ricordare Ok Indicarmi il suo nome, non devi ricordare, non devi vederla Allora Una Tieni di mano Senza guardare Senza guardare E stop 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 A quanto stiamo? Sei in teoria Vai Stop 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 Oh, aspetta Eccole Ok Adesso, io sono così sicuro che tra queste nove carte ci sia la tua che ti mostrerò solo la metà È questa? No Ok, allora tienila Da parte Quindi quella lì no Questa qua Questa qua? No Ok Questa? No Questa qua? No Questa? Pare di sì Oh no Non era questa No, no, non era, non era, non era Ok, allora Era simile Aspetta, quindi Controllami adesso tra queste carte se c'è Vediamo Tra quelle rimaste se c'è Già ho capito che non ci sarà No, no, non c'è Non c'è tra queste? No Ok, allora Se non c'era né tra queste Né tra quelle? Né tra queste Metti un attimo la mano a pugno Così Controlla No Non ci posso credere No, è tutto vero Vi giuro Io questo ragazzo non lo conosco Mi ha fermato così a caso Posso farti un trucco di magia E vabbè Questi sono incontri magici Mi raccomando Seguitelo Seguitelo Vi lascio il link Ciao Ciao